Ciao ragazzi, benvenuti e ben trovati sul mio canale Io sono Magrus Nell'ultimo episodio siamo migliorati Forse perchè siamo più doveva guidare Forse perchè abbiamo macchine più potenti Forse per fortuna, chi può dirlo Siamo sempre qui su Cars 3 Oggi ci andiamo a fare Una coppa L'abbiamo già fatta una ma Non è che sia andata poi tanto bene Ecco perchè mi volevo ripetere Infatti se vi ricordate questa l'abbiamo fatta Mi pare che siamo arrivati tipo i secondi Sì, siamo arrivati i secondi Punteremo al primo posto su queste tre gare Naturalmente come passate a un bel video Come se mi metto un bel piacere su Un bel commento, un bel mi piace Non ci perdiamo subito in parole Andiamo sempre su normale Allora inizierei a prendere Ecco Mi sa che ci prendiamo questa Ok va bene Va bene così Va bene così Secondo No 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 Andiamo tranquilli Vai Questa non la conosco Ok aiuto Se parto bene siamo già a metà strada Un'attenzione Concentrazione Che bella macchina che c'hai Vai Ok Partenza non male Partenza non male Purtroppo non c'è Devo cercare di capire dove stanno le scocciature Ecco qua Questa è roba mia Ok questa già ne è una Ma però se dici così ci prendi abbastanza in giro E dai Iniziamo a rompere le schiatole Ecco là c'è una scocciatura che abbiamo perso Ok Se vuoi battermi prendimi Siamo terzi Se vuoi battermi prendimi Non è una bella battuta Allora se ti sposti te ne vai Ecco Mi fai anche un piacere Ok Questa è mia Ok Porca la paletta ragazzi Uno schianto tremendo Non ci ho capito Una mazza Ah Qua ho sbagliato Siamo sesti Là dove si poteva tagliare Qua Fantastico L'ho beccato L'ho beccato Ma qua ho sbagliato Comunque siamo quinti Siamo sempre ancora in gara Per adesso Guarda che La pizza è da questo La pizza è da questo Si butta fuori Appunto Ok Tagliato Tagliato Ma dai A volte si Porca miseria Porca miseria Porca miseria Ma v'ammazza a tutti V'ammazza Ok Allora Guarda io non è che voglio essere Ma io non ho fatto Praticamente Niente Allora qua sinceramente Non lo voglio rifare Perché No no Le gomme no però Non è il momento Ma stai sempre Ma stai sempre qua Stai Ecco No L'abbiamo fatto apposta Ok qua È l'ultimo giro Quindi Devo cercare di guidare bene Questo è migliore Come è l'ultimo giro Come hai fatto a passarmi Come hai fatto a passarmi Ok Attenzione qua Non arrenderti Comunque siamo secondi Vai ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Tu pensi Se mi dai il turbo adesso Ce la faccio Aspetta Aspetta Ok Vai vai Veloce Veloce Vai vai E andiamo Il primo Punto O meglio Il primo podio L'abbiamo portato a casa E Però avete visto La non ci stava dando Il bonus Il grande vincitore di oggi È il grande perdente Di tutti i giorni Saetta McQueen Non ci posso credere C'è l'altro del perdente La gara di oggi Ha fornito ulteriori prove Che i miei numeri Non mentono Era finito Prima di cominciare Purtroppo il tempo è finito Io sono il leggendario Fenomeno delle corse C'è l'altro del perdente Vabbè Comunque Dobbiamo stare Tanti uniti a Mc E infatti Dovista E Cruz Ramirez Che sono quelli Che secondo me Ci potrebbero dare Più noia Comunque La prima gara L'abbiamo fatta Passiamo quindi Al secondo evento Che forse È anche meglio È un'altra Sprendita giornata Qui all'Arizona Speed E ora tutti Si stanno preparando Per quello che sarà Questa pure Zona nuova Di noco Ogni volta che ci sono Tutti i corridori Che vedete qui Sapete che ci sarà Qualcosa di Sembra una pista veloce Quest'auto È molto inesperta Di corse Servirà un po' Di fortuna E più Si però c'è rotto Queste offese E che vale Ok Meno male che abbiamo Una buona partenza E siamo Soprattutto No Allora questo non vale Ma non so neanche Dove sono andato Non vale Non vale Perché l'avevo buttato fuori E non ho capito Per quale motivo Non è uscito Comunque Attenzione qua Questo è uno È un Brun Ok 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 vabbè Comunque ci Dove vai? Ma dove è andato Quello? Aspetta Vai 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 A dopo Sì Ok Ho visto tante schiappe Come te Garegge Oh Ma porca Di quella paletta Porca Mi ha fatto distrarre Vai 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 Comunque siamo ancora qua Siamo atti Ho sbagliato Qua Gareggiamo Gareggiamo Che brutto Che brutto Gran premio Questo Oh Quello sta sempre avanti Che te lo dico a fare Se ci riesco Seppure è beccato le cose Comunque sta là Sta là Potresti trovare un posto Dove vivere di luce Si rimbomba Vai vai E' buono E' buono E dai Dammi il turbo Attenzione eh Perché stava davanti Ok Tu vorrei di Guarda guardalo 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 Porca miseria Comunque sta qua Sta qua Sta qua Se puoi battere Mi prendi Aspetta Ok Comunque sta là Sta là eh Credo anche di averlo messo da parte Ok Grande Attenzione che qua Col fatto che non conosciamo la pista Te ne vai Attenzione eh Che fa quello là sopra Ah Là si poteva tagliare No Si vabbè però Se siete così Siete scorretti Non arrenderti Anche se forse Questa sarà via Tutte quante Ok Capito già Noi ci invecchiamo Queste qua Invece E' tutto quello che sai fare Appunto Va da qua che t'ho fatto Vai veloce Vai che siamo terzi E manca te ne vai Guardalo guardalo L'avete tornato un'altra volta E' tornato Stai provando a perdere Provo A buttarlo fuori Attenzione Aia Forse l'ha buttato fuori Forse Di quello lui E' uno di quelli che mi deve stare fuori eh Appunto Bravo Aia Qua sbagliata da grande Guardalo Esce da per tutto ormai Cavolo 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 Non mi buttate fuori Che mi cazzo Vai che questo è buono Eccolo qua Ciao Ancora Vai 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 Purtroppo non c'ho Ok Poi ce l'abbiamo sempre là Ma è la voglia di buttarlo fuori Ma rimane sempre là questo Lo vedrai Lo sento dietro Ok Oh ce l'abbiamo sempre dietro Attenzione Vai Ragazzi Questa Può essere nostra Caviai Dove è arrivato Ramirez Ah Chiaro Ramirez L'hai presa di bande Eh Sdiggialo Mi ha proprio ricordato I testa a testa Dei tempi d'oro E' tutto per oggi Seguiteci domani Per altri highlights E commenti come Il leggendario campione Della Piston Cup Cic X Vabbè Comunque Bosca Lenni Perfetto Quindi In questo momento Siamo a Quota Dieci Quindi Diciamo che In teoria Penso che abbiamo già vinto Perché Non Lo sapremo sicuramente Nel prossimo Nella prossima gara Però attenzione Perché qua Non mi ricordo Sempre 5 punti Si beccano Sì Vabbè Stiamo per partire Con la diretta di stasera Dalla famosa Corsa di mezzanotte Corsa di mezzanotte Sbocchia Se siete alla ricerca Di velocità Siete venuti Nel posto giusto Perché ci aspettiamo Di vedere questo In una gara così Devo dire Che questo pilota Agrobatico Inesperto È in netto svantaggio Sì Però Ho perso Ok Eramirez Che è successo Ti ho visto un po' Vabbè Non perdiamo la concentrazione E non facciamo brutta figura Perché voi non vorreste figurare In questo Gran premio Gran premio Ok Mi devo ricordare Che devo fare le mosse Mamma mia ragazzi Ok Perfetto Iniziamo Allora Se mi state tra le scatole Io mi chiazzo Ok Questa è buona Questa è buona Dai 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 Perfetto Che fai Non me dai Ci sta ancora provando Allora Ora Ramirez Ce la sta mettendo tutta Bravo Ramirez Bravo Ok Ok Hai visto come ti ho tagliato la strada Ramirez Ti vengo a prendere Ti vengo a prendere Penso che Se ci riesco Proviamo anche a buttarti fuori Caro Caro Ramirez Anche se ho visto Che quando ributti fuori Non è che perdono tanto Ok Willa Mamma mia ragazzi Sto rischiando Veramente tanto Forse anche troppo Che c'è Non ti vorrei offendere Però secondo me Hai Sto fuori strada Così Sto fuori strada Abbiamo perso Cuta Attenzione qua Ok State migliorando Di poco Ma io Guarda qua Ciao Ram Attenzione Qua ho fatto Lo sgurfone Volevo Lanciare Ramirez Fuori E siamo Usciti Oh Caro Ramirez Oh Questa ma ha rotto Te lo dico Aspetta Se riesco a becchiarti Attenzione Ramirez Ah Perché Oh la Perdo sempre Questa curva Attenzione Will Mamma mia Ok 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 Vediamo di recuperare qualcosa Qua Ti offendi a fare Non lo so Questo Poi ti buttiamo fuori Vedi Acqua Sbagliato Perché se riuscivano ad andare all'altra parte era meglio Bravo 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 Così ti voglio Ora 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 Mirez Ok Ragazzi Vediamo di non fare Errori Ok Andiamo 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 Mamma mia Ormai Li abbiamo anche staccati Caro Ramirez Eh Non piangere Ramirez Perché lei Poi si è veramente di santa ragione in questo Gran Premio Per qualche minuto Oggi non è stato ancora all'altezza La sua terza coccente sconfitta di fila Vorrà porre fine alle sconfitte il prima possibile Ospite speciale Smoky Come la pensi? Certo Cic Oggi abbiamo visto una gara emozionante Non per la tecnica Ma per l'astuzia C'erano dei corridori svegli su quella pista Questa era CXPX Con CXX Io sono CXX E buonanotte Eh vabbè però Non direi buonanotte Voglio vedere 5 punti Allora mi ricordavo bene Classifica finale 15-16 Prima coppa vinta Ma veramente la grande Personalmente Perché in questa gara abbiamo Ma dominato Cioè dominato Veramente non abbiamo tanto dominato Abbiamo lottato E forse nell'ultimo Gran Premio Abbiamo avuto la vita un pochettino più facile Però negli altri Gran Premi Comunque abbiamo sofferto Un pochettino di più Ed ecco i migliori corridori Ah comunque era la mia azione Che è arrivato secondo Però Ce la stiamo cavate bene Ok ragazzi Anche questa parte termina qui Vi lascio in sottofondo Con la premiazione Che abbiamo vinto Naturalmente Come passatevi un video Come stiamo Mettete un piaccio in su Un bel commento Un bel mi piace Ci vediamo sempre al prossimo video Bye Ciao 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 Ciao